amici youtube sono pepino audace e oggi riprendiamo con gli episodi di vita da portiere con pepino audace carriera fiorentina andandoci a giocare con il frank varos la conference league si gioca in casa tra la posto di cristian senna pepino audace oggi sesto episodio porterò due episodi è diventa difficile durante il weekend ma piove quindi insomma un sabato un po strano a torino quindi oggi vedo di portare questi episodi per encovaros maxi lopezzo occhio milankovic lascia fuori fiorentina maier ranieri audace dodò maxi lopezzo a ieri maxi lopezzo a ieri ranieri il ancovitch dodò ma la ventura il ancovitch rainer balla e mezzo però come poi sale diventa per nico il sbuzzo dall'azione però della fiorentina prossimo proprio con la salernitana l'avventura bocca a 10 a scena occhio e mezzo occhio e mezzo di nuovo grande meglio nelle uscite come 6 e 7 migliorando bravo si sia nel recupero no tensione alla abufani occhio milankovic la cariana dodò pepino riparte da milankovic 6 e 8 buona la nostra partita sicuramente è molto meglio rispetto alle altre partite meglio per aier qua a me addosso abufani 75 0 0 peccato perché una buona fiorentina maxi lopezzo maxi lopezzo maxi lopezzo 1 a 0 fiorentina gran gol di maxi lopezzo sicuramente la prestazione nostra è buona mi ha aiutato anche sull'uscita stiamo migliorando molto più sull'uscita a anieri molto più gioco della fiorentina breccalo vodka tadish attenzione però zacherena occhio occhio e ci hanno ci hanno messo dentro gran gol ma è questo il ferengvaros la nostra più precisione ancora nell'uscita un palaver come attenzione giallo aia aia pesici ah mi sa tanto prendiamo un pareggio ci ho anche stretto ah attenzione ok riesco a impostare lì e io ovunque breccalo 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 il spuzzo e io e pino e pino uuuu attenzione tokmavic aaaah non c'è nessuno in porta non c'è nessuno non c'è nessuno però non tira non tira porta vuota incredibile e poi gol ma non ci credo ragazzi che partita strana che partita strana eppure eravamo uccide ai pali barack breccalo stavo vincendo poi il recupero aia barack uomè 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 e si se ci arriva e la perdiamo peccato peccato ancora è nostra la colpa perchè abbiamo preso il secondo gol ma ma porta vuota incredibile è incredibile pepino udaccio che non riesce a trovare pace e fa perdere di uno la fiorentina però insomma stiamo giocando un po' meglio aia 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 allora vediamo natale ho qualche investimento ce l'abbiamo Gli alti però sono tutti Bassi Allora ci facciamo una partita con la Salernitano e poi la Roma 1-0 Stiamo al posto di Terracciano Stiamo già vincendo Allora ci impegniamo noi a batterlo Il calcio d'angolo Oh Maxi Lopez E poi il gol Goal Maxi Lopez Doppietto Dal nulla è uscito il gol Dal nulla Un assist di Barak però Ma l'angolo l'abbiamo fatto noi Barak E poi si gira e trova il gol Assurdo 2-0 Eh queste partite dobbiamo cercare di vincere Anche perché Abbiamo preso con il Ferengvaro Lo sa anche se Dovremmo passare in Uh Qua è tosta Tosta avanti Mininkovic Parisi Direi molto meglio Parisi Il centrocampo che Brecalo 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 Pirola Ottantesimo dieci minuti Buradia Uh attenzione Giovane Uh che parata Incredibile Dobbiamo cercare di non prendere gol contro Almeno la Salernitana Uh ancora E' spinta buona Marisi Mandragora Dietro Martina squarta Buona partita Dalla Fiorentina Sicuramente Terracciano Brecalo Ancora Brecalo Mazzocchi Cercarla di vincere questa partita Per la Fiorentina Fondamentale Uh attenzione Buradia Buradia Col cucchiaio Buradia Buradia E ci fa secco anche Buradia Assurdo Incredibile Pino Audace Che non riesce più A trovare pace Nonostante due partite L'aveva segnato Ma è incredibile Come Le altre squadre Si divertono A farlo Ah Qua sbagliamo noi E continuiamo a sbagliare Assurdo E sono due partite Dove Pino Oh Tu a due Pareggio Della Salernitana E stavolta è ancora Problema nostro Con doppietta Di Buradia Se per inaudace È meglio Non giochi più Per due partite Non dobbiamo più uscire Dai pali È assurdo Come usciamo Dai pali Facciamo casino Brecalo Mazzocchi Come L'ha chiuso Mazzocchi Gran secondo tempo Della Salernitana Soprattutto Gli ultimi Dieci minuti Come Come Ho trovato il gol Ah Ci ha provato L'italiano Arrabbiato Per i troppi punti persi Costilla Mazzocchi Oders Non ci sono andati bene Queste due partite Speriamo In una Fiorentina Roma O Roma Fiorentina Migliore E facciamo Pareggiare La Salernitana Facciamo Pareggiare La Salernitana È 2 a 2 Per la Fiorentina Un 2 a 2 Che non Fa bene Alla squadra Peccato Peccato È ancora Un pepino Audace Prestazione opaca È rientrata Ho trovato pure Il calcio d'angolo Perfetto Servono Due partite Buone Allora Allora Andiamo Roma fuori E poi Gank Queste sono le due partite Importanti Allora Le facciamo In un secondo episodio Che Vado a dare subito Sostenete la serie Mi raccomando Ragazzi